Il Lupe e la Luna ha superato High Pitch nella prima parte di gara avendo all'esterno Stalingrado. Raimondi si adegua terzo superando High Pitch e avendo all'esterno Ballabar e Punta di Diamante. Andatura molto comoda, quella che impone Antonio Ferramosca con il Lupe e la Luna. La impone Stalingrado che precede Raimondi, Punta di Diamante, all'esterno Ballabar poi High Pitch. Sono sei nell'inquadratura televisiva quando Ballabar va al lato di Il Lupe e la Luna. Mentre Fra Gore è rimasto molto attardato nella prima parte di gara nonostante vadano molto piano. Il Lupe e la Luna torna in vantaggio su Ballabar che si adegua all'esterno Stalingrado. Raimondi è quarto, Punta e quinto, poi High Pitch a distanza Fra Gore. Il Lupe e la Luna e Ballabar sempre alle prese, sempre su Stalingrado, Raimondi, Punta di Diamante. Si è girato Antonio Ferramosca a vedere dove sono i potenziali avversari che sono quarto e quinto. Se quello che lui voleva guardare erano i due favoriti. Il Lupe e la Luna, Ballabar, Stalingrado, Raimondi, quarto in corda, Punta di Diamante che si affaccia in terza corsia. Poi High Pitch in coda Fra Gore. Sulla curva il Lupe e la Luna, Ballabar di fuori sempre Stalingrado e Punta di Diamante. Poi Raimondi, High Pitch con il Lupe e la Luna che sta scappando all'ingresso addirittura da Stalingrado. Ballabar, Raimondi che anticipa Punta di Diamante, poi High Pitch e Fra Gore in coda. Il Lupe e la Luna prova allungare in corda in seguito da Stalingrado, da Punta di Diamante, da Raimondi, poi High Pitch. Cala Ballabar in coda Fra Gore. Il Lupe e la Luna richiesto per scappare da Punta di Diamante che ha all'interno Raimondi. Punta di Diamante attacca il Lupe e la Luna. Poi Raimondi con nel finale Punta di Diamante, il Lupe e la Luna e Raimondi fino in fondo. Punta di Diamante in vantaggio su Raimondi e il Lupe e la Luna. Tutto da rivedere ma la vittoria sul palo è di Punta di Diamante che precede Raimondi e il Lupe e la Luna. 2-3-6 in ordine d'arrivo sul palo. Dovrebbe essere questo. Sono molto vicini però il 3 e il 6. Da questa altra inquadratura è più ampio il vantaggio del 3 sul 6. Andiamo a chi è quarto, giusto per onore di firma. 2-3-6, quarto. High Pitch. È tutto. 5-6, quarto.